Le iscrizioni in alfabeto Leoponzio dalla necropoli dei Calandri a Isola Rissa Verona. Da qualche tocco e vigno fuori dalla necropoli dei Calandri di Isola Rissa, nelle isole sparse, le isole della Dea Rissa, che presenti delle iscrizioni redate nella varietà alfabetica dita etrusca, ma la sommia tanto alla scrittura venetica che conserva a Este, ma il lecciama ancora Leoponzio. La cronologia della necropoli dei Calandri le posta tra il II e il I secolo a.C. Le tombe, dove ha catasti oggetti scritti e databili dalla prima metà del I secolo a.C.